Il 95% degli italiani ritiene assolutamente indispensabile che si privilegi per il trasporto delle merci, la ferrovia rispetto all'autostrada e il 55% pensa che l'Unione Europea dovrebbe investire prioritariamente su questo sistema di trasporto. Tutta questa situazione ci dà la dimensione di quanto sia importante continuare il rapporto di collaborazione tra TELTE e i principali istituti di ricerca scientifica. Le CETU è un servizio tecnico centrale del ministro dei transporti che è rattachato al ministro dell'ecologia. Il ha una sola implantazione sul territorio francese, sul sito dove siamo oggi, a Bron, a proximità di Lyon, a proximità delle Alpe dove troviamo la maggiorità dei tunneli francese. C'è un servizio che comprende 85 persone, che dipende direttamente della Direzione Generale delle Infrastrutture di Transporte e della Mer, la DGITM. Il CETU è un servizio che ha 50 anni, in effetti le 50 anni di CETU. Il ha stato creato il 31 dicembre 1970. Il era dedicato al domaine routier, quindi si intenzione a tutto ciò che affreste al tunnel. Questo va da la conception, da dimensione, da tutto il volo di gini civile, fino ai equipi, in passando per la sicurità e l'exploitazione dei lavori, la gestione e la gestione del patrimonio. Quindi, oggi, siamo molto più aperti anche ai altri modi di transporte, quindi il settore ferroviaire, tutto ciò che riguarda gli transporti urbani, e poi anche gli espaci soteri, dove c'è una riflessione che è menata su la contribuzione di Soussoli a la Ville Durable. Il CETU è in contacto con TELT, è in relazione, quindi c'è una collaborazione che existe depuis molte anni. Il s'è concrattata in particolare con un accord-cadre, che ha stato signato in avuto 2017, per una durata di tre anni. E diversi domani temati sono abordati in questo accord-cadre. La geologia, la geotecnica, l'hydrogéologia, per esempio. Per esempio, tutto ciò che riguarda l'ambiente, la gestione dei materiali excavati, e poi anche a tutti gli aspetti contractuali e l'analyse dei rischi tecniche. Di molte azioni sono state menate in questo accordo, in particolare le formazione del personale di TELT, soprattutto sull'analyse dei rischi tecniche, e poi anche dei rischi e delle espertiche sulle cose particolari. Attualmente, abbiamo un progetto nuovo accord-cadre, che è in preparazione e che è in examen aupi di TELT per partire su una nuova periodo di tre anni, con delle temati che sono nella continuità del primo accord-cadre. Grazie. 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 Grazie.